vai dal giornale alla data del giornale prendi la data completamente perché di qualche giorno fa e voglio fare una dimostrazione di esercizi ginnici tre volte a settimana esercizi ginnici tre volte a settimana tre volte a settimana lavorare tre volte a settimana non bere alcolico sierette droga niente 3 times a week workout 3 times a week for all of you who are listening 3 times a week with weights and lavorare se mi guardate dall'italia la stessa cosa saluto a tutti gli italiani salutano la mia famiglia a taranto e tre volte a settimana ricordate tre volte a settimana ricordate tre volte a settimana sempre così eppure con esercizi ginnici lavorare state attenti alla sigaretta alcolico andate in palestra tre volte a settimana three times a week workout no drugs no cigarettes no liquor because it's not good for you trust me workout three times a week it's very good stay fit so you stay in shape take care of yourself se chiamate dall'italia o se mi vedete dall'italia saluti a tutti a roma taranto e a tutti gli italiani ciao qui da hollywood rick rick martino rick martino this is from hollywood california this is rick martino 323 850 8580 ciao